Ciao a tutti da Poderac, come penso abbiate già visto nel gruppo dedicato all'assistente vocale di Amazon sono arrivati tre nuovi dispositivi che oggi andremo a commentare, sono usciti un paio di video Ecopop, Ecoshow 5 di terza generazione e Ecoauto di seconda generazione direi di partire dal video di Ecopop che è quello più interessante secondo me tra le tre presentazioni che sono state fatte in Italia e in America c'è qualche presentazione in più, mi sembra una Smart TV con inclusa la Fire TV adesso andiamo a vedere il video per capire bene di che cosa si tratta si tratta di un dispositivo molto simile a Ecodot con una forma non più sferica ma semisferica quindi cambia un pochino il design, abbiamo qualcosa di più direzionato frontalmente per probabilmente andare anche a far sentire meglio l'audio costa un pochino meno rispetto Ecodot, arriverà il 31 di maggio ed è un dispositivo così un po' particolare che a differenza di Ecodot si potrà personalizzare a livello di colore se adesso avete scelto un determinato colore con determinati accessori sarà sempre possibile cambiarlo e dopo vedremo sul sito ufficiale di Amazon che cosa intendo per questo il secondo video invece è Echo Show 5 che adesso andiamo a vedere ecco qui il nostro Echo Show 5 che si va ad adattare agli altri Echo Show di terza generazione con la pop-up camera a livello di cornici, schermo parliamo sempre di 5,5 pollici l'azienda dichiara 20% in più in termini di prestazioni e anche in qualità audio dovrebbe suonare meglio anche in questo caso hanno fatto una cosa interessante con gli accessori non solo abbiamo un modo di regolare lo schermo ho visto ma abbiamo proprio la possibilità di ricaricare attraverso una porta USB anche lo smartphone e questo lo rende un pochino più interessante il terzo prodotto è Echo Auto che come vedete cambia di design ha un design un pochino più elegante, un pochino di qualità quello di prima generazione era abbastanza plasticoso e hanno creato dei supporti per attaccarlo meglio un pochino più compatto Echo Auto è sempre stato un dispositivo cosa ne intendo? che in auto, sì, l'assistente vocale di Amazon può essere una figata però noi in cosa lo utilizziamo? noi lo utilizziamo soprattutto per il controllo della smart home in auto cosa facciamo con l'assistente vocale di Amazon? ben poco sì, possiamo aprire la serranda quando arriviamo vicino al garage possiamo accendere, spegnere il riscaldamento, rispondere alle chiamate riprodurre la musica ma questo in realtà lo facciamo già ormai tutte le auto hanno Android Auto, CarPlay e questo dispositivo tende a risultare inutile magari sì, in quelle auto un pochino più vecchiotte senza questi infotainment ma anche lì non ti dà poi la possibilità di aiutarti alla guida tipo alla guida hai bisogno di una bella mappa e al momento su Eco Auto non c'è questa funzione infatti il mio grande suggerimento è stato magari poter fare una collaborazione tipo TomTom o Garmin con Amazon in modo da poter unire queste due cose e effettivamente rendere Eco Auto più utile attualmente 69,99€ vabbè poi magari ci saranno le offerte bello da un punto di vista estesico bello il fatto che si posiziona meglio all'interno della nostra auto con questi accessori però rimane sempre il dubbio sulla utilità di Eco Auto scrivetemi qui nei commenti cosa ne pensate magari lo proverò è già disponibile vi lascio il link qui sotto in descrizione guardiamo adesso la pagina di presentazione di Eco Pop che arriva finalmente con una colorazione nuova lavanda per chi dovesse preferirlo arriverà il 31 maggio insieme a Eco Show 5 di terza generazione oltre a questi quattro colori interessanti abbiamo una funzione interessante quello di personalizzare il nostro Eco Pop attraverso queste custodie che un po' costicchiano eh ci permette di avere quindi un dispositivo che nel tempo se dovesse stancarci possiamo un po' variarlo con i colori mi sa che Amazon qui sta seguendo lo stile di Apple come fa con i suoi iPhone a livello di hardware abbiamo anche un miglioramento visto sui driver come potete leggere qui in fondo se leggete possiamo trovare informazioni sull'autoparlante che è da 1,95 pollici 49,5 mm a diffusione anteriore mentre il nostro Eco Dot di quinta generazione è da ben 44 mm quindi a livello di audio dovrebbe essere leggermente superiore parliamo di millimetri ma dovrebbe sicuramente sentirsi la differenza soprattutto perché ok anche Eco Dot ha una proiezione dell'audio anteriore ma nel caso di Eco Pop è proprio quasi a 45 gradi da come ho visto come ben sapete Eco Dot ha subito anche una variazione a seguito dell'inflazione sul prezzo di listino che adesso è 64 euro questo di listino costa 54 euro bisogna però considerare che anche l'estetica si vede che è abbastanza plasticoso torniamo un po' alle origini quasi di Eco Spot se vedete bene non c'è il display hanno messo un tessuto sono curioso questo sono veramente curioso di provarlo quindi vediamo se lo ordinerò la pagina di Eco Show 5 ci presenta anche in questo caso la dato di uscita 31 maggio come vi ho già detto e abbiamo tre colori differenti mi sarebbe piaciuta una cornice inferiore rispetto alla serie precedente abbiamo sempre 5,5 pollici cosa abbiamo di innovativo? la pop camera che però rimane sempre da 2 megapixel e i driver audio che dovrebbero essere un pochino meglio anche qui lo dice Amazon finché non proviamo non crediamo però è un bel dispositivo da avere soprattutto nel comodino come sveglia è uno dei dispositivi che ho più amato perché ti permette di avere un concentrato di informazioni su un piccolo schermo però in alcuni casi risulta scomodo per esempio in un salone grande ecco tu non vai a posizionare un Eco Show 5 vai a posizionare magari un Eco Show 15 da 15 pollici voglio vedere giusto le informazioni riguardo l'aspetto tecnico qui vedete abbiamo la pop up camera ma è proprio il driver che come vedete da 44 mm 1,75 mentre su quello di vecchia generazione era 1,65 pollici anche se in quel caso non era tanto il problema di Eco Show 5 l'aspetto della musica ma tanto sull'aspetto dei microfoni sono curioso di vedere se su questo modello hanno migliorato questo aspetto dei microfoni perché era quello l'aspetto dolente che ti faceva magari cambiare la rotta della scelta rispetto a Eco Show 8 considerate il prezzo 109 euro che è praticamente lo stesso prezzo di Eco Show 8 di seconda generazione quindi se vedete al momento in offerta altri Eco Show cercate di magari procurarli perché poi i prezzi sicuramente andranno a svanire soprattutto della seconda generazione tenderà a essere poi rimosso dallo store voglio farvi vedere anche l'accessorio che includeranno eccolo qui questo è il supporto che ci sarà all'interessante che vi permette di regolare finalmente l'inclinazione di questo maledetto dispositivo che ogni volta era difficile da posizionare certo 32 euro sono un pochino tanti ma abbiamo vedete la possibilità attraverso una porta di tipo C la possibilità di ricaricare uno smartphone con una potenza di 7,5 watt di questi tre dispositivi secondo me quello che vale assolutamente la pena considerare è Eco Pop ha un design un pochino più pungente ed è quello che porta un pochino più innovazione tra i tre modelli che sono stati presentati certi costi bisogna sempre tenerli a mente sono importanti soprattutto quelli degli accessori vedremo poi le offerte di Amazon che arriveranno con il Prime Day Black Friday che tendenzialmente sono eventi dove andiamo poi ad acquistare questi dispositivi per esempio Eco Show 5 di terza generazione secondo me è una rivoluzione con questo supporto di tipo C che ti permette anche di ricaricare il telefono così nel comodino riesci anche ad avere una specie di cable management tutto più ordinato il prezzo però di 32,99€ per il supporto è abbastanza imponente ma voglio anche vedere se ci sono dei miglioramenti a livello di audio perché ok su carta vediamo effettivamente hanno dei driver migliori poi bisogna vedere concretamente quindi lo sa cercherò di vedere se riesco a provarli io nel frattempo vi lascio il link qui sotto in descrizione se anche voi volete preordinarli fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video ciao